buongiorno amore buongiorno anche oggi ti amo non è vero in che senso non ce n'è amore non c'è niente non esiste una cosa che vedete solamente voi non esiste ma ricorda che il terzo caffè che ti prendi la caffè inassunta in molte quantità fa male questo è quello che cercano di inculcarti i poteri forti ma chi chi il tè e il latte che siccome io non li bevo allora vanno dicendo che il caffè fa male ma che stai dicendo poi ti fa venire l'insonnia la mia insonnia non è dovuta al caffè ai diepiti perché tu compri sempre tè e il latte guarda che c'è qua ma chi ti mette la mascherina cretino ma chi ti mette che sembra un ambiente chiuso buffone sì 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 no 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 amore che stai cucinando una bella carbonara per me è calato la pasta densa glutine giusto chi ti manda chi sono i tuoi padroni ma chi che cosa siete solamente schiavi della celiachia quando in realtà non esiste ma cosa dici lo sai che sto male ma non vuoi capire che la pasta celiaca è stata creata per comandare le vostre menti se mi viene una cagarella e il vostro stomaco e appunto con la pasta celiaca vi dicono quando dovete cagare vi controllano tutto a discapito di loro la pasta normale sono loro le vere vittime ancora con questo oggetto della sottomissione sei? di cosa stai parlando? degli occhiali servono per fare il loro gioco lo sapevi? ma mi servono amo se no non vedo un cazzo no al contrario se tu te li metti loro ti fanno vedere quello che vogliono farti vedere loro ma se te li vedi loro non potranno vedere mai le tue cose e non potranno mai plasmarsi la mente no tu stai male io sto bene vi mancheranno 5 gradi per occhio ma non me li metterò mai non mi avranno mai ma nessuno mi farà del male ah si ma ti fai male da solo? sono mia dranno ma che stai facendo? questo come lo vedi? ma le volte le mie? che forma ha? bombata lo vedi? sei una di loro ma che senso? si vede palesamente che è piatto cosa dici? toccalo per farmi controllare vuoi dire che non è piatto? prova il rotaglio attorno e vedi che è sempre uguale ma certo è normale che vuole da qualsiasi angolazione tu lo vedi allora la mia teoria è giusta e se lo apri ci sono pure i giganti no vabbè tu sei un cretino assai quanto un gigante proprio piatto amore dobbiamo sbarazzarci dei gatti perché? ci comandano ma che stai dicendo? e allora perché se tutti li reputano intelligenti si fanno mettere i corcantini da noi? da me? perché è una sottomissione e loro vogliono stare sopra di me e vogliono comandarmi? non posso sentirti più oggi chi ti paga per dire queste cose? buffona, buffona, buffona chi è il tuo capogatto? lo sai che c'è? non sono più un tolleato se sei sotto i gatti lo sai che c'è? hai rotto la min- ma quella piatta o quella tonda? quella tua, piccola chi è il tuo capoglio? ciao